si omnibus fere gallicis bellis britanni auxilia administraverunt tempus est è un periodo ipotetico cioè una frase complessa che esprime un'ipotesi la proposizione introdotta dalla congiunzione si si administraverunt è una subordinata condizionale che è detta protasi essa introduce la condizione necessaria perché si verifichi quanto espresso nell'altra proposizione quest'ultima è l'apodosi è una frase principale perché il periodo ipotetico è indipendente ed indica semplicemente la conseguenza della condizione espressa nella protasi se i britanni hanno fornito aiuto ai nostri nemici allora ne consegue che è il momento tempus est di partire per la britannia in base al grado di probabilità dell'ipotesi formulata in latino si distinguono tre tipi di periodo ipotetico il primo è quello dell'oggettività o realtà ed è il periodo che abbiamo appena considerato la premessa enunciata nella protasi parte da un dato oggettivo i britanni hanno effettivamente aiutato le tribù galliche contro i romani e la conseguenza è data per sicura per certa non possiamo fare a meno è assolutamente necessario suggerisce la vieno a cesare di partire per la britannia come in italiano anche in latino nella protasi del periodo ipotetico dell'oggettività si usa l'indicativo che è il modo dell'oggettività dell'obiettività mentre nell'apodosi tutti i modi delle proposizioni indipendenti quindi indicativo l'imperativo il congiuntivo esortativo